Io conto di vedere il ministro De Vincenti nei prossimi giorni per fare il punto su Bagnoli. Su Bagnoli noi siamo a questo, possiamo chiudere un accordo storico, potremmo dire, senza precedenti su Bagnoli, con una grande intesa tra la città in tutte le sue articolazioni e il governo nazionale, con il contributo anche per la parte di sua competenza della regione Campania, oppure potremmo non raggiungere un accordo e questo sarebbe molto grave. L'accordo non si raggiunge se si va in una direzione contraria al lavoro che sinora si è fatto con grande spirito di cooperazione istituzionale. Io sono fiducioso, credo che si riesca a raggiungere questo accordo e c'è bisogno che ci sia al più presto un incontro col ministro De Vincenti, col quale c'è dialogo, c'è cooperazione, ma su Bagnoli adesso non si può più attendere. Da una parte sulla bonifica, dove c'è bisogno del mantenimento dell'impegno integrale con le risorse economiche, ma soprattutto sul piano Bagnoli, che è il piano che non può che essere il piano della città e su cui bisogna andare su una linea coerente e non sostenere e dire delle cose e poi vedere che si va in qualche altra sede da qualche altra parte. Perciò c'è bisogno di quel chiarimento finale in cui le istituzioni ai massimi liavielli trovano un accordo nell'interesse del territorio, degli abitanti, della città e del paese, perché Bagnoli è un obiettivo strategico e un sito di interesse nazionale. Quindi io continuo a essere fiducioso, però c'è bisogno di un incontro che non sia tecnico, che non sia un incontro fatto da altri, ma sia un incontro da chi ha l'onore e l'onere di rappresentare le istituzioni ai massimi livelli. E' lì che si decide definitivamente, una volta per tutte, il futuro di Bagnoli. Quindi io mi farò anche promotore dell'incontro quanto prima possibile con il Ministro.